La partita contro la realizzazione della tanto temuta centrale a biomasse di Avezzano arriva ad un epilogo. Il prossimo 31 marzo si deciderà definitivamente per il sì o il no nel corso della conferenza dei servizi davanti alla regione Abruzzo, i rappresentanti istituzionali dell'area interessata e la ditta realizzatrice. Tante erano state le manifestazioni di dissenso da parte di cittadini e associazioni ambientaliste che in più di un'occasione avevano elencato tutti i rischi per il territorio e l'economia dell'area in questione. Le preoccupazioni ambientali per una centrale che non ha rispetto dell'ambiente fucenze, dell'agricoltura e anche quindi dell'economia della zona del Fucino e dell'intero Abruzzo. Impossibilità di reperimento della biomassa legnosa, elevatissimi consumi di acqua incompatibili con le necessità di approvvigionamento del Fucino, smaltimento delle acque industriali, impatto sull'habitat naturale, inquinamento atmosferico e danni all'economia e nello specifico per il comparto agroalimentare. La ditta non ha ancora chiarito dove prenderà le 275.000 tonnellate di legno che brucerà in questo camino. Siamo contrari perché utilizzerà un milione di metri cubi di acqua che saranno tolti al consumo umano e agricolo. Nell'attesa della decisione del 31 si prepara un nuovo presidio di manifestanti proprio sotto al Palazzo della Regione che fino ad oggi, insieme alle istituzioni coinvolte, si è sempre professata contraria alla sua realizzazione, ma la preoccupazione degli ambientalisti resta sempre alta. Una riconversione che è stata spacciata quindi come un progetto all'avanguardia a livello ambientale e che invece da subito ha perso i pezzi fondamentali, ossia soprattutto la ricostruzione di una filiera agroenergetica che avrebbe dovuto prevedere un impianto di cogenerazione di calore, dove il calore fosse riutilizzato per alimentare le serre che dessero quindi una nuova spinta all'agricoltura del territorio e che si è persa da subito invece con la concezione di una semplice centrale elettrica che avrà solo delle ricadute negative, non solo quindi sulla qualità dell'aria, dell'acqua, ma anche proprio sulla stessa attività agricola.